Ciao a tutti, noi siamo gli Speranza, siamo di San Beigno Canavese, siamo 5 componenti, Samuel Cattaneo al basso, ciao, io sono Flavio e suono la chitarra, ciao io sono Alessandro il batterista, ciao Federico e suono il tastiere. Questa sera vi proponiamo dei brani, anche delle cover dei 21 Pilots, due, Holding on to you a ride, e dei brani nostri che sono totalmente nuovi rispetto all'anno scorso, non so se vi ricordate, perché abbiamo il nuovo componente Federico che è di tutto rispetto. Abbiamo visto che anche gli altri gruppi sono di tutto rispetto questa serata, quindi si presuppone una bellissima sfida e un'occasione per incontrare altra gente fantastica.